Il 2020 è stato un anno drammatico per molti di noi, per tante famiglie e anche per il mondo della scuola che ha dovuto operare in situazione di emergenza e tra mille difficoltà. La tecnica della scuola ha sempre cercato di rimanere al fianco di tutto il personale scolastico, sostenendolo con tante notizie, servizi, progetti e idee, anche con nuovi canali, video, dirette e podcast. Ci auguriamo tutti che nel 2021 si possano trovare delle soluzioni per far sì che la nostra vita ritorni a essere normale e possiamo riprendere le attività professionali e personali. Auguri a tutti! Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i nostri lettori! Tanti auguri! Auguri! Tanti auguri! No! Scusate! Scusate, dovremmo mettere! Scusate, dovremmo mettere! Fa benissimo! No, fa benissimo! 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, si sta registrando? Scusate, scusate, dovremmo mettere l'attivare l'attivio! Auguri, Buon Natale e Buon Inizio d'Anno a tutti! Tanti auguri! Tanti auguri! Tanti auguri! Tanti auguri di Leone Que, cassa! Che, cassa